riccardo bang a 14 anni sembrava un ragazzo di 17 biondo alto con le spalle larghe la carnagione abbronzata dall'elito marino non si era però sentito attrarre dalla vita di pescatore che faceva tuttavia suo padre in quel povero borgo di grimstad sul fiordo sempre agitato perciò il padre e gli amici di lui non predicevano niente di buono intorno all'avvenire di quel ragazzo che andava in su e in giù tutta la santa giornata per la via mal lastricata e fangosa che tagliava a metà le 50 case di mattoni che formavano il borgo egli veramente non andava in su e in giù per la via mal lastricata e fangosa ma picchiava ora questo ora quel cancello dei giardinetti che circondavano le 50 case e chiedeva il permesso di zappare il terreno di potare gli alberi quando l'autunno cominciava a spogliarli di fronde e non si curava se i padroni del luogo gli davano no qualche compenso per quella spontanea fatica una sola cosa chiedeva ai più agiati un libro una rivista un giornale da leggere e che restituiva puntualmente appena letti figuratevi dunque la gioia di riccardo bang la mattina che picchiando al cancello dell'ultima casa dove non era andato da un pezzo si trovò faccia a faccia con un incognito venuto ad abitarvi da una settimana dal vestito e dai modi più che dall'aspetto il ragazzo aveva subito capito che colui non era un marinaio o un accaparratore di pesce fresco come ne arrivavano tanti per poche ore dalla vicina città di bergen di aspetto rude con barba folta e rossiccia sopracciglia setolose occhi cilestri naso grosso e robusto labbra carnose che si intravedevano a stento sotto i baffi spioventi alto magro un po curvo vestito accuratamente con un abito scuro il nuovo inquilino di quella casa si era affacciato al cancello tenendolo aperto a metà che cosa vuoi chi sei aveva domandato bruscamente riccardo bang un po spallordito rispose scusi credevo di trovare qui gli algran che vi abitavano prima scusi e che dovevi dire agli algran io so dove sono andati niente venivo per curare il giardino ah sei tu me ne hanno già parlato entra possiamo intenderci ti chiami riccardo bang rispose vedendo che lui non riusciva a ramentarsi il cognome precisamente e se tu oggi non fossi venuto fra qualche giorno sarei venuto io a cercarti nell'altra estremità del borgo terza casa sinistra non è vero e dall'accento e dal sorriso si capeva che voleva prendersi una rivincita della mancanza di memoria di poco avanti io mi chiamo garborg herman garborg riccardo bang e chinò la testa strizzò gli occhi in atteggiamento di riflessione dove aveva letto quel nome si ricordò in un giornale e glielo disse sono appunto io bravo tu dunque leggi giornali e chi te li dà me li prestano di tanto in tanto ma troppo arretrati qualcuno viene da bergen da copenaghen da cristiania porta spesso qualcosa rotolato in un giornale lo lascia in casa dai suoi amici o lo butta via io li leggo tutti leggo qualunque pezzo di carta stampata mi capita in mano ho letto anche dei libri disse con aria altera da me ne avrai quanti ne vorrai se tu ma entriamo in casa quella casa fabbricata con mattoni come tutte le altre era una delle più vaste e aveva due piani anche il giardino che la circondava era più grande di tutto il borgo il più ricco di alberi a bergen quando volevano indicare gli algran dicevano quelli dal giardino grande ma in otto giorni da che il signor garbard vi abitava la casa era stata trasformata al pian terreno c'era proprio una bottega di falegname e di fabbro ferraio con tutti gli arnesi occorrenti appesi intorno alle pareti mucchi di tavole di abete di murali di faggio ferro in lamiere in sbarre lastre di rame di stagno un incudine un mantice già messo al posto dietro la fucina e sotto la fucina una gran provvista di carbon fossile le due stanze superiori sembravano trasformati in una biblioteca o in una scuola con quegli scaffali pieni di libri con tante carte murali che non erano geografiche e che a riccardo parvero disegni di meccanismi per mulini a vento sul largo tavolino che occupava il centro della biblioteca riccardo con rapida occhiata vide altri disegni appena bozzati di meccanismi uguali a quasi a quelli delle carte murali dall'uscio semi aperto di questa stanza poté scorgere alcune parti di quei meccanismi là in disegno già belli ed eseguiti e avrebbe voluto osservare meglio più da vicino ma il signor garbarc si affrettò a chiudere l'uscio dicendo di là non si entra per ora perché mi volevate domandò riccardo perché ho bisogno di un ragazzo come te intelligente e discreto soprattutto discreto nessuno deve sapere quel che si fa qui dentro sono curiosi in questo borgo non hanno tempo di essere curiosi fanno il mestiere di pescatori anche mio padre e tu che mestiere fai riccardo si vergognò a rispondere nessuno come avrebbe dovuto e disse faccio il giardiniere qui farai tutt'altro disse garbarc quanti anni hai quattordici il vecchio lo guardò un po incredulo quattordici meno un mese dieci giorni aggiunse beng in modo più affermativo tanto meglio tanto meglio borbottò il signor garbarc squadrandolo dalla testa ai piedi devo fare i patti con tuo padre non c'è bisogno di patti mi sembrato un galantuomo mi affido la vostra bontà mio padre sarà contento di non vedermi ozioso in quanto alla descrizione mettetemi alla prova bravo mi piaci se fabbricaste i molini a vento disse beng dopo alcuni istanti di silenzio qui trovereste poco da fare i miei molini a vento rispose il signor herman ridendo serviranno a tutti e dovunque ah lo sapevo sciocco che sono voi siete un inventore di una macchina di una macchina non so come la chiamava il giornale e non importa che tu lo sappia entrerai in servizio domani avverti tuo padre non voglio noie con nessuno così riccardo beng non ha mai fatto niente come dicevano suo padre gli amici di suo padre cominciò a fare qualcosa che gli sembrò meno triste e duro del mestiere di pescatore cominciò a fare qualcosa di più cominciò a fare qualcosa di più